Ciao, sono Arika e sono una attrice, sono molto contenta di avervi qui oggi perché volevo chiedervi di unirni a me in una lotta che sto tortando a danti contro l'onologazione, noi siamo qui per dire basta all'aduso di chirurgia estetica, basta al dotox, basta alle tunturine, ci sono donne che non sono più in grado di trannunciare l'altadeto, l'adc, A D C D E T G H I R R R A D U R F T U C C Grazie veramente, donne che usano la D di Donodossolo invece che D di Dologna, che usano la T di Torino invece che D di Talerno. Talerno in Sicilia, non Talerno vicino Natoli. E quindi noi siamo qui per dire Dasta a tutta questa nassiticazione, Dasta a tutta questa onnologazione. E quindi vi chiedo a Nato Tudlico di unirti a me e dire anche a noi Dasta al mio tre. Uno, due, tre. Grazie veramente. Io di Ano, Ano Ano.